Per anni sembrava che a fare l'affare fossero gli africani. I cinesi avevano cominciato a costruirgli strade, stazioni, infrastrutture. Poi si è capito che le miniere chieste in cambio di quelle opere contenevano terre rare fondamentali per le moderne tecnologie dai cellulari alle risonanze magnetiche. Un po' come era accaduto secoli prima con gli indiani d'America, perline in cambio di terreni. Quando gli indiani se ne accorsero erano già chiusi in una riserva. Non è mai chiaro chi è davvero a fare l'affare. Se siamo noi che ci togliamo di mezzo i rifiuti oppure quelli delle altre province che se li prendono. Si prendono i nostri soldi e con quei rifiuti, con quegli avanzi delle nostre cucine, ci ricavano il biometano per i loro ospedali, le loro fabbriche, le loro macchine, gratis o quasi con la roba nostra. Ora ci siamo ripassati i conti. SAF, la società pubblica, costituita da tutti i comuni della provincia di Frosinone in parti uguali, torna a fare quello che faceva fino a due anni fa. Tornerà a trattare quegli scarti di cucina. Aveva smesso di farlo perché i suoi vecchi impianti non erano più in grado di rispettare le nuove norme in materia ambientale. All'epoca ci facevamo dei fertilizzanti per l'agricoltura eppure di scarsa qualità. Oggi i sindaci sono stati chiari. Bisogna fare come le province del nord, con le tecnologie più moderne, con i partner più seri e con il controllo assolutamente in mano pubblica. I sindaci vogliono controllare. Il presidente della SAF, Lucio Migliorelli, ha esaminato i candidati, scelto come partner una delle società del gruppo Saxagress. È entrato con una quota e sarà lui il presidente della SAF a nome dei sindaci della provincia a presiedere, guidare, decidere, controllare. Smetteremo insomma di pagare un occhio per far fare gratis il metano green agli altri. Ce lo faremo per noi, da noi e con gli avanzi delle nostre cucine. A differenza di un privato, SAF è una società pubblica. I guadagni quindi andranno ai comuni e quindi ai cittadini. Per una volta è chiaro chi farà l'affare. Senza ricevuta di ritorno.